Nella giornata adierna si discute di infrastrutture, ma soprattutto di gestione e promozione. Il passo importante è soprattutto il passo iniziale, questo? Beh, sì, perché se noi vogliamo far conoscere le bellezze del nostro territorio, senza infrastrutture, senza promozione, è perfettamente inutile. Perché uno dei fattori maggiormente richiesti oggi del turismo è proprio la raggiungibilità in tempi brevi. Si viaggia più spesso, ma per meno tempo, per cui il fattore raggiungibilità diventa fondamentale. Proprio da qui partono diverse iniziative, si studiano e si ragionano per promuovere le nuove iniziative, c'è qualche novità in ballo? Ma di novità poche purtroppo, ci sono tanti pensieri, tante buone considerazioni, poi però andrebbero portate a termine. Ancora, diciamo, si va avanti con l'idea che per far diventare turistica una zona bisogna fare gli alberghi, invece è un concetto mai antico e non è più così. Bisogna dare delle motivazioni e una raggiungibilità. A quel punto si ha il prodotto e bisogna fare una promozione adeguata, se no nessun posto decolla. Grazie. Grazie.